Che vino è questo? Questo è un Enanzio della Cantina Val d'Adige, annata 2016. Che cosa stai facendo? Adesso stiamo facendo una decantazione di questo vino. È un vino importante che necessita di tempo per essere ossigenato. Quindi utilizziamo questo speciale decanter che ha creato l'architetto Benati. Cosa c'è qui dentro? Queste sono delle sferette di vetro satinato che servono per accelerare il processo di decantazione e di ossigenazione del vino. Diventano come se fosse una superficie, ho capito bene? Assolutamente sì. È il concetto di contenere una grande superficie di vetro su cui far scorrere il vino per ossigenarlo più rapidamente. Quindi adesso fungono da filtro, però si sempre ossigenano? Esattamente, esattamente. Per vini di annate importanti fungono anche da filtro nel caso di residui, di depositi all'interno della bottiglia e accelerano il processo di decantazione. Facciamo la prova? Assolutamente. Questo è il vino direttamente dalla bottiglia, quindi non scaraffato, non decantato. Sentirai un po' di... Invece questo? Questo è quello invece decantato con le sferette. Una volta passato dal decante. Un'altra roba. Devo dire che è molto più aperto, aggraziato. È il gusto vero del vino? Assolutamente sì. Che è tutto un chiletto delle sferette qua? Che me le porto a casa? Non conoscevo questo metodo, è veramente interessante ragazzi. Se passate da queste parti, venite a trovare Nicola qui a Torri del Veneto, il posto è fantastico. E poi ce le sferette per il bim-bom.